No il lanciabuffi, il lanciabuffi ci sta, il lanciabuffi, l'ha venuto l'inglesismo qua, il lanciabuffi ci sta Ah beh, sto sparando Il lanciabuffi Il lanciabuffi Questo si va a camperare dentro Il lanciabuffi Andiamo un po', cioè il nerf al lanciagranate ci sta, perché veramente il lanciabuffi quando c'aveva i 90 passacolpi giocavi solo di quello, lo spammavi come un drago di komodo e via Oh Eh Eh Una cosa che non ci sta secondo me è il nerf esagerato che è stato fatto ai vampa fucile Cioè per via del colpo preciso i vampa sono stati ridotti tantissimo, proprio tantissimo ragazzi, è una cosa proprio estrema Oh cristo Ok Bro bisogna un consiglio, stavo sviluppando una guida per Fortnite, una bomba, poi però ho visto che c'è un gioco 4-5, secondo me vale la pena Boh Boh Non so proprio che dirti Di queste cose non so proprio che dirti bro Cioè non sapevo nemmeno che utilità potrebbe avere una cosa del genere Sincero Ce ne stanno un sacco di cose che potrebbero migliorare a questo gioco Vedremo più avanti se lo faranno Ce l'hanno la possibilità di farlo Io quando sono andato a parlare con l'Epic Games Gli ho mostrato tutti i bug, glitch, tutte queste cose spiegandogli Cioè che loro dovrebbero andare verso la direzione di fixarle queste cose Non possono rimanere in game delle meccaniche di genere così rotte E vediamo Vediamo se quello che gli ho detto lo prenderanno in esame Cioè io gli ho fatto vedere tutte le cose sbagliate e rotte del gioco Cioè gli ho pure spiegato che il doppio pompa Per quanto sia una meccanica amata da alcuni giocatori E per quanto molte persone la considerano una meccanica skillata Io gli ho detto una meccanica che rompe il gioco Se considerate il fast farming un exploit Il doppio pompa è peggio del fast farming Il doppio pompa è peggio del fast farming Perché? Perché praticamente tu vai a cancellare l'animazione di sparo E quindi spari più veloce Cioè è il reale una cosa del genere Gli lanciarazzi fanno full danno per canterare i camper E se tu sei in un fortino e c'è due lanciarazzi? Come fai? Cioè vedete qual è? E' quella la cosa che dico Vediamo se riusciamo a dropparla a ste venti bomb ragazzi Sarà difficile ma noi ci proveremo Come sempre boys Oh 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 Oba besta weston Allora 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 Ma come sono scherzo a costruire bro Mi sto allenando tantissimo Ci deve essere qualcun altro qui in giro 100% Eccola lì Lo sapevo Ah smirato tantissimo Smirato tantissimo e malissimo Vediamo un po' se lo riusciamo a droppare Ste 20 bomb anche se Ehm Ho aspettato il momento che si distraeva Che a cabina Ho capito quello lì dove si è camperato No lo volevo buttare fuori e colpire dal volo Tipo palla Grazie. 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 No way. Sto cercando un cecchino ma non mi sembra di vederlo. Un cecchino? No, un cecchino col mirino. E vabbè, dai, stai 20 bomb l'abbiamo droppato, almeno quello. Almeno una gioia. Questa cosa siamo prendendo quel cazzo di lanciarazzi e glielo tiro. Mi sono veramente rotti i coglioni. No, sono io che devo andare da lui. Balanced. Ah, sono io che devo andare da lui. E non. Stambi dopo. E ne m'ho 긴장avo la grama. Abono. Pistareani se ritmosi Dio cazzo dicionastat. Lo fa anche. Disse di casa, dove ceva ungetappi da claimati a coli sono secondi. Pistareso la alta... Biura di然後nare alcuni. Grazie a tutti. Grazie a tutti. Fortino, fortino l'altro. GG. GG easy.